Sarà Antonio De Jesu, già questore di Salerno, a guidare il comune di Eboli dopo la sospensione del Consiglio Comunale la nomina di un commissario prefettizio. Data la rilevanza del comune sia per importanza sul territorio provinciale che per grandezza demografica, oltre che per la rilevanza delle questioni da affrontare, il prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha scelto un altro prefetto per sostituire sulla poltrona di primo cittadino il dimissionario Massimo Cariello dopo il periodo di transizione affidato al vice sindaco Lucas Groia. Cariello si è dimesso venti giorni fa, poco dopo la rielezione, per l'inchiesta che lo ha costretto ai domiciliari con l'accusa di aver pilotato concorsi pubblici, ma ci sarebbero altri aspetti ancora da chiarire nella gestione del comune di Eboli. Napoletano, in pensione da pochi giorni dopo l'incarico di vice capo vicario della polizia, già anche questore di Napoli, Milano, Bari, oltre che a Salerno dove arrivò nel 2010, De Jesu conosce bene Eboli che dovrà guidare fino alle elezioni del maggio 2021, covid permettendo.